Musica E buona prima ragazzi, io sono Tegra, oggi sono Bresonato e io sono qui in un nuovissimo video riguardante quello di World War 2 Oggi vi andrò a parlare delle armi che hanno aggiunto su World War 2 o che comunque c'erano ma non hanno voluto svelare prima delle 3 Io vi ricordo che sul canale c'è un video riguardante delle 8 armi che avevano svelato la conferenza quella prima delle 3 che avevano fatto tipo un mese e mezzo fa Quindi se non l'avete visto andatevelo a guardare così sapete anche le altre armi che ci sono Detto questo l'argomento di oggi sta appunto in nuove armi che non vi avevo svelato prima Partendo subito dalla prima arma è l'STG44 Che nota anche come Sturmgewehr 44 Che cos'è questo STG44? E' un fucile d'assalto del modello 1944 Questo fucile è a fuoco selettivo, ovvero può essere automatico o semiautomatico E' stato utilizzato dai nazisti ed è stato anche sviluppato da Ugo Schmeisser durante la seconda guerra mondiale Questo STG44 è il modello base di tutti gli moderni fucili d'assalto E' anche conosciuto sotto la denominazione di MP43 e MP44 L'STG44 fu la prima arma di successo del suo genere L'idea di questa arma ebbe profonde ripercussioni sull'industria bellica nel dopoguerra Fu concepita attorno a una munizione per quei tempi rivoluzionaria Perché era intermedia fra quelle di un fucile e quella di una pistola In modo da permettere ad ogni soldato il tiro automatico efficace Controllabile a tutte le distanze di combattimento Quest'arma è nata per colmare il vuoto tra il K98K e l'MP40 Ovvero tra i fucili e le pistole mitragliatrici Compiendo il suo dovere alla perfezione In particolar modo sul fronte orientale Perché offriva un raggio d'azione superiore a quello di una pistola mitragliatrice In grado anche di mantenere la cadenza di fuoco giusta Purtroppo giunse troppo tardi sul fronte della guerra Perché se fosse stata inventata prima Poteva influire sulle sorti del conflitto Fatto sta che comunque rivoluzionò le tattiche e il ruolo della fanteria Conferendo ad ogni singolo soldato una potenza di fuoco Senza precedenti a tutte le distanze di combattimento Passando alla seconda arma che vi andrò a parlare oggi È un'arma leggendaria Penso che tutti la conoscono Ed è l'MP40 Su Black Ops 3 aveva il nome di HG40 Ma il vero nome è l'MP40 Perché l'MP sta per Maschinenpistole Ovvero pistola mitragliatrice Quaranta è del 1940 È stata inventata dai tedeschi Progettata da Heinrich Vollmer Ed ebbe una notevole influenza sulle pistole mitragliatrici Durante il conflitto Sia per la produzione Che all'epoca Queste pistole mitragliatrici Erano avveniristiche Ovvero si utilizzavano i modelli precedenti all'MP40 Sia per l'architettura Generale Che fissò lo standard della sua categoria Infatti Le pistole mitragliatrici che vengono dopo all'MP40 Hanno come layout Diciamo Una certa somiglianza Con l'MP40 L'MP40 deriva dall'MP38 Che a sua volta è un'evoluzione dell'MP36 Questo MP36 è un prototipo realizzato dall'azienda tedesca Erma Verke È stata fatta questa arma per soddisfare la richiesta del governo tedesco Ovvero volevano una nuova arma automatica All'epoca Quest'arma appariva futuristica Perché rispetto a tutti i moschetti automatici del tempo L'MP38 L'MP38 introduceva dei concetti rivoluzionari Però era realizzata tramite fresatura dal pieno E con impugnatura in lega di alluminio Questa impugnatura in lega di alluminio Serviva per controllare il peso Cioè lo conteneva in modo da risultare abbastanza leggera Dopo l'inizio della seconda guerra mondiale Venne introdotta l'MP40 Che era un'arma più semplificata nella costruzione ed era più economica La terza arma di oggi è la Lewis Gun Ovvero la Lewis Automatic Machine Gun Quindi è una mitragliatrice leggera Stato Unitense Progettata da Samuel McLean Però non l'ha progettata tutta questo Samuel McLean Perché infatti l'idea è stata appunto di questo signore Però il colonnello Isaac Newton Lewis L'ha perfezionata e ha sviluppato anche il concetto di mitragliatrice leggera Perché se voi ci fate caso nel nome non c'è Lewis Automatic Light Machine Gun C'è solo Machine Gun Quindi è una mitragliatrice Poi Isaac Lewis ha messo il concetto di macchina leggera Pesava all'epoca 12,7 kg E anche se a voi può sembrare strano Il peso rendeva più facile il trasporto Perché c'erano armi molto simili alla Lewis Che però pesavano di più L'arma ebbe l'esordio nel 1913 Quindi nella prima guerra mondiale Però non ebbe grande successo Perché l'esercito americano la riteneva inadeguata E quindi la sostituì con la più economica e meno affidabile Chauchat Che è una mitragliatrice leggera francese Nel 1917 la Chauchat venne poi sostituita a sua volta dalla Browning Automatic Rifle L'ultima arma di cui vi andrò a parlare oggi è la MG 15 Ovvero la Maschinewehr 15 Che è una mitragliatrice aeronatica tedesca Ideata da Bergman Rheinmetall Costruita poi dalla Rheinmetall Borsig Negli anni 30 e 40 Questa MG 15 andava a sostituire l'MG 29 Che venne scarrata dalla Germania Il modello MG 29 è quello prima dell'MG 15 Era una dotazione standard dei veivoli utilizzati dalla Luftwaffe Nel periodo prebellico e durante la seconda guerra mondiale L'MG 15 venne anche acquistata dall'impero giapponese alla fine degli anni 30 Quest'arma venne considerata efficace all'inizio del conflitto Era caratterizzata da una cadenza di fuoco di 1000 colpi al minuto I proiettili erano di calibro 7,92 mm E se abbinate queste caratteristiche alla capacità del caricatore Quindi 75 colpi dal calibro 7,92 x 57 mm Mouser Quest'arma riusciva ad esaurire i colpi in solo 4 secondi Questo era un grande problema per i mitraglieri Infatti equipaggiavano oltre all'MG 15 Anche i borgbandieri Janker Siu Achtundachzig quindi 88 A1 L'MG 15 se utilizzata come arma di difesa Capite bene che se ogni 4 secondi andava ricaricata Diventava un vero problema Perché in quei 4 secondi venivano lasciati scoperti dei veivoli Quindi la difesa dei veivoli per quel periodo di tempo veniva lasciata scoperta Quindi i mitraglieri dovevano decidere se cambiare ogni 4 secondi questi caricatori Oppure aspettare che venisse scaricato per metà questo caricatore e svuotarlo Questo fu un enorme problema perché capite bene che se voi lasciate scoperti per ogni 4 secondi i veivoli ve li abbattono tranquillamente Per questo motivo l'MG 15 venne sostituita dall'MG 81 Però l'MG 15 non scomparve del tutto infatti la dotazione della Wehrmacht la utilizzava ancora All'MG 15 infine fu applicato un calcio e un bipiede per poterla impiegare come arma terrestre Equipaggiarla per le truppe dell'Ehr Detto questo io vi ho detto le prime 4 armi delle restanti 7 Detto questo io spero che il video vi sia piaciuto Se è stato così lasciate un bel appoggio in su Se non siete ancora iscrivetevi al canale, commentate, condivete Io vi rimando a mercoledì prossimo dove andrò a parlare delle restanti armi Detto questo noi ci vediamo in un nuovissimo video Non mi ha dato lei e bella regà Non mi ha dato lei e bella regà